Apple e Porsche per un unico semplice motivo, la qualità nell'innovazione. L'innovazione è la velocità, veloce si nasce e si diventa attraverso il lavoro, il sacrificio, l'impegno. Speriamo che sia così anche per i nostri ragazzi che diventino sempre più veloci, competitivi e che ci diano tantissime soddisfazioni. Questo vuole essere un in bocca al lupo naturalmente per la squadra del Pescara e naturalmente si parla anche di anticipare i desideri e quel che serve ai vostri clienti. Così come un po' i giocatori anticipano gli avversari. Esatto, ho detto benissimo, sia Porsche che Apple rappresentano due marchi che anticipano sempre le esigenze dei clienti, che aspettano il cliente laddove il cliente si troverà a chiedere, a domandare servizi e prodotti innovativi. Il Pescara dovrà anticipare tutti, dovremo essere sempre più bravi, sempre più competitivi e speriamo che questo evento della presentazione dell'iPhone 5 sia anche un ottimo auspicio per la partita contro il Cagliari e di fare punti perché occorrono punti per la nostra salvezza. Anche perché al tuo marchio, al marchio dell'Apple, c'è legata una scaramanzia che viene avanti insomma dalla Lega Pro. Quindi la continuiamo, non la sveliamo più di tanto però? Non la sveliamo ma diciamo che l'iPhone ha portato fortuna a Ganci, ha portato fortuna a Zeman e per quest'anno non lo diciamo oltre ma speriamo che porti fortuna anche per questa stupenda avventura in Serie A. Daniele Sebastiani è il presidente di questa fantastica squadra, appena di giovani stavi chiacchierando proprio con Chintero. Che cosa gli stavi dicendo? Questo è il pupillo della società, è il piccoletto quindi come l'altro anno era Verratti e adesso tocca a lui essere la mascotte. L'uovo Folletto, non di Manopello stavolta. No, no, è bravo, è bravo, molto bravo. Poi prende in giro Gasly, gli dice che è venuto a fare il traduttore, il tomtom di Chintero. Invece tu te la cavi benissimo? Sì, sì, Gasly, benissimo. Tu? Bene. Io? Poco, poco. Piano piano so che andate a scuola, l'Italian School for the Language. Sì, sì, poco a poco parlando italiano e ovviamente ho capito un po' già. Quale amico li aiuta di più a parlare italiano? Un po' sono molto solidali i ragazzi italiani. È lui, è lui il tutor di Chintero. Bene, vedi, in una squadra che funziona ci vuole anche questo, insomma, aiutarsi reciprocamente. La Pescara Calcio non poteva mancare a questo bellissimo evento organizzato proprio dalla Vitieri con iPhone 5 assieme a Porsche per essere sempre avanti e sempre più veloci. Speriamo di diventare più veloci noi e essere avanti noi come Pescara. Ormai sei come uno slogan, Presidente, sei uno spot. Anche perché noi tutta la sera abbiamo cercato di trovare una similitudine tra questi nomi. Quindi abbiamo detto l'anticipazione, quindi come i ragazzi che anticipano l'avversario, loro anticipano con la tecnologia, i tempi e anche l'esigenza dei clienti. Eh ma noi siamo abituati, noi siamo un pochettino, c'è un mio amico che dice siamo troppo avanti, dobbiamo tornare un po', ci dobbiamo fermare un attimo, aspettare qualcun altro. Quindi allo state sereni abbiamo aggiunto stiamo avanti. Beh, stiamo avanti è troppo abusato come termine, comunque ci stiamo veramente. Siamo sereni? State sereni. A Cagliari sereni? Sempre sereni. A Cagliari sereni.